Come hai deciso di portare le vacche in fiera? È sempre un bel ambiente, si conoscono un sacco di persone, si fanno nuovi amicizi, si conoscono nuovi modi di lavorare, è sempre un'occasione per trovare persone che magari si vedono poco spesso, amici che vengono da tutta Italia e anche dall'estero. Grazie mille, gentilissimo.